Ciao, mi chiamo Maria Luisa e questo è il mio canale YouTube nel quale parlo di tutto ciò che mi appassiona, viaggi, skin care, minimalismo, arredamento. Ieri ho registrato però un video un po' diverso dal solito, diverso sia perché è in lingua inglese, così mi è stato richiesto da molte di voi, forse perché studiate inglese, non so, mi interessa. Desidero anche ovviamente che i miei video possano essere fruiti da una più grande audience, è particolare anche il tema, perché decidere di trasferirsi in Sicilia? Quindi è un'analisi dedicata a tutti i nomadi digitali, le famiglie che decidono di avere un fresh start o cos'altro, i pensionati. E' proprio un invito a venire in Sicilia e quindi un'analisi di tutti i pro e i contro. All'interno di questo video ho messo una clip di foto scattate personalmente da me, dei posti più belli, più belli della mia meravigliosa isola. Quindi questo video, che è più breve del solito, va considerato come una sorta di anteprima, perché desidero davvero tantissimo mostrarti questa mini mini videoclip e magari perché no ispirarti a trasferirti in Sicilia o anche solo a visitarla. Ciao, ti auguro una buona giornata e oggi sto andando in una cittadina molto bella del Catanese, Giarre, perché voglio portarvi con me, sarà una sorpresa. A dopo, ciao! Grazie! 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 Grazie!